Le ha detto adesso il vento è cambiato? Sì, il vento è cambiato, anche a Milano abbiamo assistito a una serie di sgomberi, di eliminazioni di situazioni di illegalità di cui sono molto contento e molto soddisfatto. Il nuovo ministro degli interni ha dato la spallata che mancava. Cosa ne pensa della candidatura congiunta di Milano-Torino e Cortina? Ma guardi, penso quello che ho dichiarato insieme al sindaco Sala, valutiamo, noi come sempre da buoni soldatini siamo a disposizione e credo che Milano sarebbe stata la soluzione migliore. Penso quindi come Sala, una regia più chiara? Sì, adesso vediamo un attimino come verrà organizzata la regia, vediamo un attimino cosa si deciderà di fare, comunque noi come abbiamo detto e come ribadiamo siamo sempre a disposizione del paese. È una scelta mancata quella di candidare una sola città? È una valutazione diversa. Sì, oggi siamo un po' più inutile, però abbiamo visto adesso che Sala si ha espresso su questa cosa dell'Università, dicendo che... Aspettiamo le due e mezza che c'è la conferenza stampa del CONI e poi diremo ancora. Grazie.